Comandante Luigi Amitrano, oggi cerimonia ufficiale con la Regione, partiranno i lavori per l'ampliamento, l'ammodernamento degli hangar della Guardia Costiera qui all'aeroporto di Pescara? Sì, per noi è un momento molto importante perché la Regione comunicherà formalmente, ufficialmente al Provedorato alle opere pubbliche di aver stanziato i finanziamenti necessari per realizzare l'hangar per il ricovero dei nostri velivoli. Per noi è un momento importante, è un momento importante per il corpo delle Capitanerie di Porto perché significa potenziare il reparto di Pescara. La realizzazione dell'hangar consentirà anche l'arrivo degli elicotteri della Guardia Costiera su questo aeroporto e credo sia un momento importante anche per il territorio abruzzese, per Pescara ma per il territorio abruzzese perché la realtà della Guardia Costiera, il reparto di volo della Guardia Costiera si ingrandisce e chiaramente afferma la sua presenza su questo territorio a tutela di tutto, a tutela di chi va per mare perché noi garantiamo la sicurezza in mare attraverso l'attività di soccorso ma soprattutto la tutela dell'ambiente perché i nostri velivoli sono anche equipaggiati per fare l'intervento ambientale e quindi tutte le problematiche ambientali siamo coinvolti e interessati. Noi assicuriamo un servizio di allarme H24 su tutto il territorio nazionale, i nostri velivoli per le loro caratteristiche, per la portata e le capacità che hanno, hanno la possibilità di intervenire su chiamata su tutto il territorio nazionale e attraverso collaborazioni ci spingiamo anche all'estero. Assessore Morra, allora questa mattina importante cerimonia in aeroporto qui a Pescara, sono arrivati i fondi per l'amodernamento dell'hangar della Guardia Costiera, insomma si parte con un'estate importante e la Guardia Costiera in estate ha una funzione assolutamente importante. Abbiamo ritenuto importantissimo, proprio determinante, indirizzarli verso la costruzione dell'hangar perché forse l'importanza di questo distaccamento, del comparto volo della Guardia Costiera non è conosciuto alla maggioranza degli abruzzesi, qui c'è un'attività di salvaguardia dell'ambiente, di vigilanza, di importanza strategica anche a livello militare, qui c'è un distaccamento di 106 persone che hanno una grande valenza non solo militare ma anche per l'importanza che danno perché coincidono con l'aeroporto di Pescara.